Mai avrei immaginato di nascere in un tempo in cui tutto cambia così velocemente e il moderno viene consumato e superato con la rapidità di un download. La tecnologia che non si ferma, diventa intrattenimento, l'innovazione sociale che chiede a gran voce la rivoluzione e le nostre vite iperconnesse e mai così bisognose di passione e creatività. Vorrei poter tornare indietro a quel momento, al vostro 2012, per chiedervi di osare di più, di fare di più e di consumare meno. Dovete provarci, seminare creatività per raccogliere innovazione e andare incontro al futuro con la determinazione non soltanto di credere alle nuove idee, quanto di fuggire dalle vecchie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.